A fronte delle molteplici sfide della sicurezza che l'Unione Europea deve affrontare in Medio Oriente e Nord Africa, i leader dell'Unione Europea hanno rivolto la loro attenzione allo stato della difesa e all'alleanza con la Nato durante il secondo giorno del loro vertice virtuale. La Presidente della Commissione Europea esprime il rinnovato impegno ad agire insieme. Affrontiamo queste sfide in tutti i teatri in cui si trova la Nato al momento, ma ci sono anche degli scenari in cui la Nato non è impegnata, ma in cui è chiamata in causa l'Unione Europea, per esempio le missioni dell'Unione Europea o quelle delle Nazioni Unite. In entrambi i casi l'Unione Europea deve essere in grado di gestirle. Pertanto l'Europa deve sviluppare delle proprie capacità e porre fine alla frammentazione che mostra se guardiamo alle nostre capacità militari. Bisogna sviluppare sistemi interoperativi nell'Unione Europea. Una parentesi in un vertice dominato dalla pandemia e dalla difficoltà di avanzare nella campagna vaccinale. I leader si sono impegnati a spingere per aumentare la produzione e iniziare a lavorare su un certificato vaccinale a livello europeo, un progetto a cui guarda con entusiasmo il Portogallo alla presidenza di turno dell'Unione Europea. Si tratta di un certificato che funzionerà per tutta l'Europa e che sarà reciprocamente riconosciuto da tutti i firmatari, allo stesso modo in cui abbiamo fatto con il sistema di test rapidi. Garantirà che si possa entrare in Portogallo senza quarantena, anche per i cittadini di paesi terzi. Dopo mesi di incontri virtuali, i leader progettano di incontrarsi di persona il mese prossimo a Bruxelles.